Andrea Braga per MCTV. Fabrizio, cosa bisogna imparare dal caso Sallusti? Ma cosa bisogna imparare? Sicuramente questo è un caso che il direttore del giornale ha voluto sollevare chiedendo di andare in carcere per far notare che c'è una legge contraddittoria e secondo me anacronistica. Le norme sulla diffamazione vanno cambiate ma non perché Sallusti è finita in carcere, andavano cambiate da molto tempo, una legge vecchia, superata, non in linea con la società di oggi, fermo restando che chi comunque commette un grato deve pagare, non è che si può invocare un differente trattamento per un giornalista rispetto a un altro cittadino. Ma quindi oggi cosa significa fare il giornalista? Fare il giornalista come abbiamo visto vuol dire anche rischiare in prima persona. L'importante è cercare sempre di essere onesti con il proprio lettore e il proprio spettatore, cioè sapere che di fronte a una persona che ha diritto di conoscere da te tutti i mezzi, tutti gli strumenti per formarsi un'idea. Può un giovane fare informazione? Deve fare informazione, un giovane deve fare informazione perché se i giovani non entrano nell'universo della comunicazione e dell'informazione, l'informazione diventa una cosa da vecchi. Grazie a Fabrizio Sumonte, un saluto da Andrea Braga per MSC TV.